Una piccola città con tanti problemi soprattutto di viabilità ma la visita di Papa Francesco si è trasformata indubbiamente in un grande successo di immagine per Isernia. Un appuntamento con la storia per il capologo Pentro, una città che ha preparato al meglio un evento che resterà nei suoi annali. E si può ben parlare di annali perché il comune sta preparando come ha anticipato Brasiello la pubblicazione di un volume che racconterà attraverso le più belle fotografie scattate dalla gente comune la visita di Papa Francesco, fotogramma dopo fotogramma. Intanto Monsignor Cibotti ha voluto cogliere l'occasione di ringraziare tutti, autorità e stampa, per un lavoro comune fatto con tanta abnegazione, un lavoro che ha mostrato al mondo intero il volto migliore di una città in festa per l'arrivo del Santo Padre o dalla sua venuta. Quella del Papa in una settimana lei ha visto tante cose, il suo giudizio si segna? Beh lo posso riassumere con quello che stavamo dicendoci io e il Papa sulla Papa mobile perché quando ha visto questo calore mi si è rivolto per dirmi con lo sguardo così e io gli ho detto eccellenza e santità anch'io è la prima volta che lo sto guardando per cui quella di un popolo una realtà di un popolo caldo accogliente generoso dicevo dignitoso e composto. Ecco che cosa farà la curia di sede per ringraziare il Papa si parla anche di una visita a Roma prossima? Tante iniziative di carattere spirituale dicevo nella conferenza stampa che celebrano l'anno giubilare celestiniano poi avremo modo anche culturalmente di sensibilizzare l'opinione pubblica a questa realtà della visita del Papa che non deve rimanere un episodio e poi ecco ci sarà sicuramente un gesto ufficiale potremmo prevederlo non sappiamo quando ma un pellegrinaggio di tutta la diocesi per dire grazie a Papa Francesco. E anche il prefetto Piritore ha voluto elogiare in questa occasione ufficiale tutte le forze dell'ordine e i volontari che hanno contribuito al successo di un evento storico per la nostra Isernia. Sicuramente noi abbiamo avuto anche un'occasione speciale quella dell'accoglienza al vescovo per poter in tempo in anticipo organizzarci per questo evento. Devo il mio ringraziamento a tutte le forze di polizia indistintamente per l'impegno che hanno propuso e per le capacità professionali. Naturalmente non è soltanto una riuscita dell'ordine pubblico ma anche l'organizzazione in genere che è stata apprezzata e questo ci fa specie specialmente quando si tratta di conciliare sicurezza con evento e quindi l'evento ha avuto una riuscita formidabile.